Bella lecchi rapani, siamo i Grananas e siamo tornati con una nuova challenge Siamo i Grananas come sposte scontato, no lo devi ribadire ogni volta per i nuovi iscritti Siamo i Grananas porcaccia la troia, vi dovete scrivere Guardate questo video, perché ci chiamo Grananas, dovete andare a vedere i facchi precedenti Esatto, perché continuate a chiedere, eh stronzi Tra l'altro c'è un facchi con scritto proprio perché ci chiamiamo Grananas E ovviamente noi non abbiamo risposto, perché noi siamo alvaggi Il titolo è il ripriscio l'altro facchi Comunque, oggi siamo tornati La panica mi Grananas, non scontati Capito, e oggi siamo Facciamo una challenge, però non è una challenge come l'hanno fatta in molti Che tipo, vabbè intanto diciamolo, questa è l'emoji challenge Yes, però non è la challenge Tanto non è che dal titolo l'hanno visto, no Tipo imita le emoji, no No No, noi la facciamo in chiave diversa In chiave di violino Comunque, vabbè Oggi cosa faremo, noi andremo a spiegare, eh Cosa, cioè, quale sono le emoji che usiamo di più nei video Sì E perché Perché nei video Le emoji che usiamo di più in generale Sì E perché le usiamo Quindi cosa vogliono dire per noi quando le usiamo E cosa rappresentano per noi queste emoji Noi le guardiamo sul cellulare Mentre voi le vedrete comodamente Qui sotto, molto belle E facili da individuare Allora, la mia prima emoji che uso spesso Più infimi No, vabbè, ma la uso anche quei amici ogni tanto Qualcuni sì, alcuni no Dipende dall'amico Cioè No, per esempio C'è un amico con cui lo uso Che è Christian Altri anche Con te non mi viene Con altri non mi viene Perché è diverso il rapporto Giusto, giusto Perché è un pezzo di merda Comunque Sì Questa qui è quella Vabbè Perché ce l'avevo per prima Quindi Se vede che l'ho usata ultimamente Non mi ricordo per quale motivo Però sì Io ho il bacino col cuore È inutile che vi spieghi il perché Vabbè Ma stiamo qui Perché io ho spiegato il cuore L'ho uso con tutti in realtà Cioè Tranne sì In fact Manco con lui io uso Eh Il trozzo Perché non le usa lui Perché se no le userei Non è vero Comunque bacino col cuore Perché magari che ne so Un amico mio Dai se becciamo dopo Mua Oppure Sempre con Il gasolino Sì Perché il gasolino Tutti baci Tutti baci al gasolino Poi Perché chatto con le tipe Quindi Per fare le rosicate Tipo le pio per cuore E poi gli mando il bacino col cuore Io La mia seconda invece È Quella col Col coso Che fa così Il pollicione Ho un odio Quando la usa Il pollicione Cioè Tra quella e l'altra Vabbè quella è tipo Per dire ok Di ok Cioè Di che Ma faccio prima Mette questa che scrive ok No perché la devi andare a cercare No ma faccio così Ce l'ho subito Eccola Questo qui vuol dire Tipo per dire ok Se siamo capiti Cioè nel senso Non è per mai Per prendere per culo Quando lo uso È tipo per dire Oh ce stai oggi Sì ce sto Ok Oppure scrivo dai No io uso quella così Ma quella così Invece questa qui Mi sta presa per culo a me Questa qui no Questa è metà depresa per culo È questo l'ok In realtà Cioè questo Vabbè questa è per dire Dai e Bomber Hai capito Me ne mente gabbo Quando metto sta Uè Bomber Dai Il meme di gabbo che fa Così si fa Bomber La mia seconda Non so perché stia qui Probabilmente l'avevo usata Due secondi fa Ma non so per quale motivo Quindi è inutile Ve la dico Dico la terza Che uso sempre Anche su Ask Che è quella con l'occhiali da sole No Volevo dire la prossima Eh mi dispiace A te non la usi mai Io la uso sempre Mazza la uso io Ma che cazzo Sì come di Tag Life Eh capito Sempre con l'occhiali da sole Così Immaginate mi è bello guatto Con l'occhiali da sole Cioè proprio la faccia gialla Con l'occhiali da sole Come ti son meglio io E ti metti quella con l'occhiali da sole Esatto Capito Quindi mo Taradadam Con l'occhiali da sole Un'altra che uso molto È la banana No No perché Ma serio Ah no Sì Sì Tra le utilizzate di recente Ma che cazzo Se vede che l'ho mandata a qualcuno Una banana Un'altra che uso molto È tipo questa La faccina che fa Ma anche io uso quello Che manda il bacio col cuore Però io uso tanto il razzo No adesso è arrivato il momento Di scoprire il razzo Il razzo Perché il razzo ce l'ha messo Il razzo è Deriva da Matteo Vicarazzi C'è Perché lui Per questo lui metteva sempre razzi No lui su Instagram Facendo lipster del cazzo Che faceva Lui metteva Metteva il razzo Se parlando di dread Metteva il razzo E poi ti vedo di 18 Allora tutte le sue foto Tutti i suoi stati Finivano con Razzo Di via di 18 Razzo X E ha cominciato ad usarle anche lui Tu non puoi Sono swag Allora io per prenderlo per culo Ho cominciato ad usarle anche io E quindi adesso Mi è venuta la mania Di usarle anche a me Ora prenderò quelli con lui Usandone anche io E poi mi verrà la mania Anche a me di usarle Mentre la mia Più usata È quella delle tre gocce Le tre gocce Ah il quinto Eh io lo uso molto in quel senso È un po' volgare Non la voglio usare Io sì Soprattutto quando mi viene Tipo la lingua Allora subito dopo Io butto quella Sì abbastanza Una che uso molto è Cosa con la lingua Mai usata Non con te No ma hai usata io Ah te Cosa con la lingua Vabbè cosa con la lingua È tipo quando sto scherzando Eeeh No Non è che poi Quello che puoi scrivi Squirt No Non c'entra un cazzo No no È tipo proprio quando mi inviano La lingua e basta È tipo per di Che cazzo ne so Per di Dai Esci le bocce Dai che battuto del cazzo Che battuto del cazzo fai Io Che cazzo Non so come Non so spiegarlo Com'è quando lo uso Com'è Aspetta no fammi spiega bene Dai È tipo per di Vabbè ma tu sei un coglione No non lo so Vabbè Non lo so Perché il coglione ho fisetto Vabbè io diciamo che Uno che usa soltanto con una persona Che è sempre il buon Matteo Piccarazzi H3D È quella delle birre Che si scontrano Perché ogni volta lui In pratica io e lui ci scriviamo Soltanto per andare a bere Non è che ci scriviamo Oh come stai Ci mandiamo note audio da ubriachi Oppure quando dobbiamo andare a bere E basta però Ho fatto quattro volte così Ma perché è figo Immaginerebbe Poi uso molto quello lì Con lo smalto Le unghie che si mettono Nello smalto Ma che cazzo Uso anche il bacio E uso anche il pollicione nero E il video finisce qua Se vi è piaciuto questo video Se vi è piaciuto quello prima Lasciate il like A quello prima Se vi è piaciuto quello di oggi Lasciate il like A quello di oggi Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Quello di domani Lasciate un like A quello di domani E niente ragazzi Noi ci becchiamo Al prossimo video Come sempre Sempre in compagnia di voi Sempre con i ragazzi Dei palazzi Se facciamo Tanti cazzi Mi immaginate sempre qualcosa La grana se è tutto Ciao 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 Io sono mister ciao Ciao